Di stare qui in uno dei posti più belli di Napoli. Da quanti anni esiste questa pizzeria? Da più. Come mai si chiama così? No, ma non si chiama con Cettina, perché con Cettina si è appoggiata ai tre santi che ci stanno nei dicole che si ricorda del 700. Allora hai tre santi. Hai tre santi. E poi diciamo che qui non vi preoccupate, anche le due, le tre, mangiate sempre, anzi ci stanno... Siamo proprio in amore d'aniche, sempre così. Ci si dice mai basta. Ci si dice mai basta. Guardate qua come le pizze, come le fanno, in forma antica. Saluto Mariano. Complimenti. Sì, e raga, mi piace davvero bene. E qua, come vedete, la fila. E siamo alle quattro. Da voi nemmo aspettate voi qua. Positano News. Si attende. Sì.